Dopo la pausa per le festività pasquali, i ragazzi di Mr. Maiuri tornano in campo, tutti a lavoro per preparare la prossima gara, la trasferta in casa del Real Nocera. Il Brindisi deve continuare a puntare la vittoria per essere sicuro di agganciare playoff. La prova di sabato scorso contro la Turris ha lasciato la mare in bocca. Il pareggio ha di fatto bloccato i biancazzurri che se avessero vinto si sarebbero sentiti maggiormente sicuri. Ma Mr. Maiuri sdrammatizza il risultato con la Turris, solo un incidente di percorso. E del resto la squadra ha dimostrato di saper far bene, la striscia positiva di risultati ha fotografato un team compatto, ben preparato, che è saputo superare unito molti ostacoli, inclusi quelli societari. Insomma, a parte il rammarico per un'occasione persa quella con la Turris, nel gruppo si respira un'aria di grande fiducia. La gara di domenica prossima contro i campani sarà un'ulteriore prova, ma l'entusiasmo in casa biancazzurra non manca. Ma Iuri terrà comunque gli occhi aperti, l'avversario non è un avversario semplice, pur occupando la quart'ultima posizione in classifica e pur avendo perso l'ultima partita. Il Nocera avrà voglia di riscatto, ma i brindisini hanno ben altri obiettivi.